Buonasera, ben trovati alla terza edizione del TG6 che apriamo parlando di cronaca perché il giorno dopo c'è ancora incredulità per l'omicidio del tecnico informatico Giuliese Paolo Cialini Freddato con una coltellata ieri sotto gli occhi della figlia di 7 anni per una banale lite in strada dovuta ad una mancata precedenza Vediamo il servizio di Andrea Costantini Il giorno dopo il ferrale omicidio che si è consumato in strada al centro di Giulianova resta lo sgomento all'incredulità che hanno portato alla morte un uomo, un marito e un padre di famiglia Una scena insensata quella che si è parata di fronte a chi ha assistito ad un momento di ordinaria follia che ha scardinato la routine di due persone che chi le conosce le definisce per bene, tranquille ed estremamente dedicate al lavoro Una vita si è spezzata, quella del 47enne Paolo Cialini, tecnico informatico di una ditta di Mosciano Sant'Angelo, residente a Giulianova in via Galvani non troppo distante dal posto dove si è consumato l'efferrato delitto, via Leorsini, all'incrocio con via Verdi L'altra vita invece è rovinata, quella di Dante Di Silvestre, 60enne tecnico caldaista di Selvapiana di Mosciano Sant'Angelo e proprio per la sua attività, molto conosciuto in città, rovinata da quella che è stata una vera e propria azione d'impeto un raptus dal quale è parzialmente uscito alcuni istanti dopo aver sferrato la coltellata mortale tanto che, dagli ultimi particolari che emergono, sembra essere stato proprio l'accoltellatore a chiamare i soccorsi del 118 tuttavia avani, poiché dopo un primo tentativo di rianimarlo, l'uomo è espirato durante il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Giulianova in stato di shock l'uomo ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri che lo hanno posto in stato di fermo per omicidio volontario a rendere ancora più agghiaccianti quei minuti il fatto che quelle scene si siano svolte sotto gli occhi della figlia della vittima di soli sette anni, un trauma inaudito che la piccola, che era in macchina col papà, porterà per sempre dentro di sé dalla prima rissa, scaturita per una banalissima mancata precedenza, all'inseguimento del di Silvestre che al suddetto stop si para con il suo fiorino davanti alla punto della vittima e lo fredda con una coltellata all'addome ulteriori dettagli si conosceranno al termine dell'esame autoptico odierno l'accoltellatore nel tardo pomeriggio di ieri è stato portato nella caserma dei carabinieri dove è stato ascoltato dal procuratore Guerriero e dal sostituto Scordamaglia subito dopo è stato trasferito nel carcere di Castrogno le parole del sindaco Mastro Mauro racchiudono i sentimenti della comunità giuliese Quello che più inquieta e rattrista è che per un fatto di così futile una persona tranquilla, un artigiano stimato in città e in provincia si sia trasformato in un feroce assassino salvo poi ritornare dalla sua follia a un senso di risipiscenza chiamando l'ambulanza Io esprimo tutto il mio sconcerto, nel contempo il cordoglio per le due famiglie sia quella dell'assassino ma soprattutto perché è stata sconvolta sicuramente ma soprattutto per colui che ha perso la vita, una persona di 47 anni e per quella bambina che sedeva al suo fianco, la figlia di 7 anni che sicuramente è stata colpita duramente da un episodio che ha vissuto in tutta la sua drammaticità Un episodio di violenza, quello di Giulianova che lascia sgomenti perché caratterizzato da futili motivi, secondo lo psicologo Fabrizio Mascitti Dante Di Silvestre è stato colto da un raptus che gli ha fatto perdere tutti i freni inibitori per quanto riguarda la figlia della vittima, una bambina di 7 anni secondo lo psicologo la ferita della mente e dell'anima si potrà contenere con un lungo lavoro ma non potrà mai essere cancellata. Ascoltiamo l'intervista con lo psicologo realizzata da Alfredo Primante Fondamentalmente accade questo, siamo continuamente bombardati di notizie, di informazioni c'è un trend negli ultimi anni che ci spinge a considerare normale la violenza per cui in un momento in cui ci ritroviamo a che fare con un episodio, con una situazione che ci richiede una reazione aggressiva ma normale accade che tutto quello che il nostro cervello ha preso nel tempo in termini poi di normalizzazione della reazione aggressiva e dell'ampiezza di questa aggressività venga poi messa in atto in un gesto che nulla a che fare con il nostro modo di fare con la nostra coscienza, con la nostra morale e a quel punto in quella situazione viene meno quella forza che è il nostro cervello di autoregolazione per cui a quel punto c'è una sorta di annullamento del tempo, dello spazio ed è un po' come spingersi al di là della normalità, al di là della situazione specifica e questo spinge poi addirittura a commettere quello che è successo a Giulia Nova cioè ad assassinare una persona per una banale lite addirittura davanti a una bimba di 7 anni davanti alla figlia della persona che è stata assassinata ragazzina che purtroppo a questo punto subirà notevoli conseguenze importanti ha subito quello che viene considerato un grande T, un trauma grande, importante dovrà essere sottoposta a cure, ma sono cure che poi la seguiranno per tanti anni una ferita che difficilmente si può rimarginare assolutamente, si cercherà un po' di contenerla ma la vita di questa ragazzina in qualche modo sarà segnata L'uomo, stando ai racconti dei testimoni, è rimasto praticamente sul posto aspettando l'arrivo dei carabinieri ecco, magari la coscienza di quello che si è fatto è arrivata in un secondo momento Esatto, infatti è giusto chiamarlo raptus cioè c'è un momento, c'è uno spazio temporale, uno squarcio nel quale la persona agisce senza il controllo e appena dopo riprende il controllo della situazione si rende conto di quello che è accaduto e da quel momento in poi potremmo dire che è lucido da quel momento in poi si rende conto e lì agisce da quel momento in poi agisce la persona che tutti conoscono Ancora cronaca resta ai domiciliari Stephen Collins l'inglese 36enne accusato di omicidio plurimo aggravato per avere travolto e ucciso con la sua auto due uomini nel dicembre scorso a Martinsicuro il Tribunale del riesame respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali da alcuni mesi Collins e a domiciliari in una abitazione di Ladispoli il prossimo 5 ottobre comparirà davanti ai giudici per il processo con rito immediato secondo l'accusa la sera dell'incidente l'imputato aveva bevuto molto tanto da avere un tasso alcolemico di 6 volte superiore al consentito nonostante ciò si mise alla guida della sua auto della quale perse il controllo travolgendo la vettura su cui viaggiavano Graziano Battistelli e Marco Iampieri due marittimi del posto Ancora cronaca proseguono in tutto l'Abruzzo i controlli dei carabinieri del NAS di Pescara sulla filiera della carne i militari negli ultimi giorni hanno ispezionato due strutture un'azienda della provincia dell'Aquila per la macellazione di carne ovina ed un laboratorio per il sezionamento con annesso ristorante tipico in provincia di Pescara riscontrando in entrambi gravi carenze circa 5 tonnellate di carne sequestrata a vincolo nell'Aquilano mentre nel Pescarese è stata disposta l'immediata chiusura dell'attività lasciamo la cronaca parliamo di economia perché nel 2015 in Abruzzo ci sono segni positivi per l'export, produzione e anche seppur di poco per l'occupazione a dirlo il rapporto annuale di Banca d'Italia Filippo Tronca dopo anni di segni meno la profonda fase recessiva che ha investito l'Abruzzo nel 2015 si è arrestata anche se permangono elementi di forte preoccupazione per l'economia della nostra regione a dirlo il rapporto l'economia in Abruzzo a cura della Banca d'Italia illustrato oggi in un convegno all'auditorium di Renzo Piana all'Aquila la ripresa, si legge nel rapporto è stata sostenuta principalmente dal buon andamento della produzione nell'industria più 4,8% trainata dalla crescita agli ordinativi sia dall'estero che sul mercato interno in particolare l'attività produttiva ha mostrato una vivace espansione nel comparto dei mezzi di trasporto più 14,9 le imprese di grandi dimensioni del manifatturiero hanno registrato incrementi della produzione nettamente superiori rispetto alle piccole e medie imprese segnali positivi anche nel mercato immobiliare e dunque nel settore dell'edilizia visto che il numero di compravendite in calo da alcuni anni è tornato a crescere del 7,2% inoltre il numero degli occupati in marcato calo nel bienno precedente ha registrato un moderato incremento dello 0,6% e al vivace recupero del primo semestre tuttavia seguite una nuova flessione a partire alla seconda metà dell'anno e rimane ancora elevato il tasso di disoccupazione pari al 12,6% emerge che innanzitutto c'è stato un cambio di passo dell'economia nel senso che dopo anni di contrazione finalmente vediamo segni più davanti a tutti i parametri più significativi dal PIL innanzitutto alla produzione industriale all'occupazione al credito anche e persino nel campo delle costruzioni cioè quello che era il settore più disastrato diciamo così c'è finalmente un segno positivo questo è sicuramente un fatto positivo scorporando infine i dati complessivi su squala regionale si osserva che ad alzare la media in modo decisivo di produzione, export e occupazione sono solo alcune aree e alcuni settori in primis il polo industriale della Val di Sangro dove la Sevele e il suo indotto macina numeri da record in altri territori invece la fine della crisi non la si vede nemmeno con il binocolo Quelli che tirano la volata diciamo sono le grandi imprese e mentre le piccole imprese faticano Quali grandi imprese? Beh innanzitutto quella del Sangro Teatino la Sevele che è quella che traina praticamente tutta l'economia abruzzese e anche con esportazioni di notevole peso certo questo è un fatto vero che bisogna mettere a fuoco cercando di arrivare a una distribuzione più lata del discorso Cambiamo pagina anche la Teramo Ambiente aderito allo sciopero nazionale degli addetti all'igiene urbana ennesima agitazione quella dei lavoratori teramani dettata dal rischio del mancato rinnovo del contratto Elisa Leuzzo Allo sciopero che ha avuto inizio questa notte alle 4 hanno aderito tutti questa volta quindi riuscito al 100%? Sì alla Team al 100% anche in altre parti della provincia di Teramo Giulianova Vavibrata eccetera è una risposta che Teramo dà anche alla controparte che è al suo ambiente affinché si rinnova questo contratto nazionale oltre alla richiesta economica che noi facciamo perché sono quasi 30 mesi che il contratto è scaduto siccome c'è da parte della controparte una richiesta che per noi è ricevibile c'è quella di liberalizzare il mondo del lavoro dell'igiene ambientale in parole povere mentre adesso quando c'è un cambio appalto l'azienda che vince deve riprendere tutti i lavoratori alle stesse condizioni che c'erano prima cioè con il contratto FIS eccetera la richiesta della controparte è quella di liberalizzare questi contratti questo significa da subito 300-400 euro in meno al mese con tutte le tutele che verranno meno Purtroppo in coda a questi scioperi c'è il malcontento dei cittadini ma la responsabilità certamente non sono dei lavoratori ma è di chi comunque non vuole rinnovare il contratto e voglio dire un'altra cosa perché ho sentito delle interviste anche dei consiglieri comunali di Teramo i lavoratori della Team oltre a essere dei cittadini per cui a non poter oggi come tutti i cittadini teramani togliere l'immondizia dentro casa oltre a questo questi perdono giornate di lavoro per cui insomma io credo che come sindacato non è che ci divertiamo a far perdere giornate di lavoro se facciamo lo sciopero se facciamo lo sciopero perché ci sono delle richieste a cui noi vogliamo delle risposte Cambiamo ancora pagina si infiamma la polemica sul progetto di installare un serbatoio per lo stoccaggio di 25.000 metri cubi di GPL nel porto di Ortona in vista del consiglio comunale di domani sera gli ambientalisti chiedono alla politica una scelta forte per la salvaguardia del territorio Una scelta antistorica e pericolosa così la rete di cittadini ed associazioni ambientaliste bollano il progetto di installare nel porto di Ortona un serbatoio da 25.000 metri cubi per lo stoccaggio del GPL troppi i rischi per l'incolumità dei cittadini troppo pesante l'impatto sulla viabilità ortonese troppo alto è il rischio di uccidere il settore turistico della zona già in difficoltà poi c'è il capitolo dell'istituzione del parco della costa teatina provvedimento fermo ancora a Roma secondo gli ambientalisti lo stoccaggio del GPL andrebbe contro la vocazione naturalistica di Ortona e della costa dei Trabocchi C'è un mercato tendenzialmente mondiale che va in tutta altra direzione ormai si parla di efficientamento energetico di fonti rinnovabili e di mobilità sull'elettrico solo il mercato italiano è un'anomalia che comunque non reggerà nel lungo periodo e contro il territorio perché su quel territorio sarà a breve istituito il parco nazionale della costa teatina che inspiegabilmente è ferma presso la presidenza del Consiglio dei Ministri e continuiamo ad avallare delle realtà che sono diciamo economia di scale spot per delle aziende che continuano a puntare su mercati antistorici domani alle 18 all'interno del Consiglio Comunale di Ortona si tornerà a parlare del progetto le associazioni chiedono al sindaco e alla politica di ascoltare i cittadini e di fare una scelta forte per la salvaguardia del territorio per l'implementazione della green economy e del turismo verde molti introiti li stiamo perdendo ogni anno abbiamo tantissimi problemi per far venire gente a vedere i nostri bellissimi posti adesso questo progetto qui ci dà l'ultimo colpo sulla testa ecco diciamo così facciamo l'esempio del Trentino che solo in un anno fa un introito di 85 milioni di euro per il bike ecco noi che abbiamo un territorio che è proprio vocato a tante forme di turismo non lo sfruttiamo al massimo andiamo avanti con il nostro giornale promuovere l'Abruzzo volando fino a Caponordo con un aereo da turismo e tornare a Pescara con la missione di far conoscere la nostra regione e le sue potenzialità l'iniziativa è stata messa in campo dall'assessore regionale Donato Di Matteo e la collaborazione dell'aeroclub di Pescara il turismo che passa sopra le nostre teste e salta l'Abruzzo preferendo altre regioni si tratta dell'avioturismo che conta un traffico di almeno 50 mila passaggi l'anno con questo obiettivo l'assessore regionale Donato Di Matteo mette in campo una missione che punta a far conoscere Pescara il suo aeroporto spingendosi fino a Caponord con l'aiuto dell'aeroclub di Pescara sicuramente questa iniziativa serve a far crescere questa associazione che contribuirà con la sua crescita alla crescita della visibilità del nostro Abruzzo perché quando questi ragazzi arriveranno a Caponord diranno da dove vieni da Pescara quindi dall'Abruzzo questa è una grande iniziativa di promozione turistica del nostro territorio dieci giorni per andare e tornare e soprattutto farsi ricordare l'avioturismo racchiude in sé un numero di potenziali attori che mai prima hanno considerato Pescara e l'Abruzzo come una tappa un mercato che esiste e che si muove obiettivo dunque promuovere un'infrastruttura che in sé contiene tutte le caratteristiche necessarie l'avioturismo ci permette diciamo in poco tempo di raggiungere mete che normalmente con vettori normali sarebbero abbastanza scomode considerate che in un'ora di volo si raggiunge una fascia di circa due o trecento chilometri quindi innanzitutto con l'aereo l'aereo da turismo riusciamo a essere più rapidi e raggiungere per esempio la parte della Dalmazza della Croazia della Grecia e poi riusciamo sicuramente a portare più velocemente possibile quelle che sono le opportunità dell'Abruzzo e far arrivare in Abruzzo considerate che noi abbiamo un aeroporto molto importante molto ben strutturato che purtroppo è ancora sotto tono quindi riuscire a intercettare anche quello che è il mercato il target degli aveturisti persone che hanno aeree da 3-4 posti che potrebbero atterrare e visitare Pescara visitare le nostre bellezze naturali dal mare alla montagna è abbastanza importante e facile svilupparlo noi parliamo ora di sanità e torniamo a Teramo perché una delle eccellenze del nosocomio Teramano potrebbe perdere il suo primario Marco Deusanio arrivato poco più di un anno fa a dirigere il reparto che fu del padre Giuseppe potrebbe infatti approdare alla direzione dell'omologo reparto dell'ospedale di Ancona sull'argomento questa mattina abbiamo ascoltato il manager della ASL Teramana Roberto Fagnano L'ospedale Mazzini di Teramo sta perdendo il primario di cardiochirurgia come risponde ai rumors Allora sotto l'aspetto formale noi non abbiamo alcuna notizia perché i rumors che fa riferimento ovviamente a una graduatoria pubblicata presso l'azienda ospedaliera di Ancona per l'analoga disciplina e che vede il dottor Deusanio primo classificato ovviamente può lasciare presupporre questo però questa è una scelta legittima dell'interessato sia quella di abbandonarci e quindi verso altre attività probabilmente più qualificanti oppure quella di restare vedremo nel momento in cui ci saranno i tempi tecnici perché l'interessato possa fare la scelta quale sarà questa scelta la cosa è che la cardiochirurgia a Teramo c'è resterà e resterà sempre su questo punto se ci saranno scelte di questo genere l'azienda immediatamente e tempestivamente farà e adotterà soluzioni altrettanto qualificate Comunque conferma che eventualmente è una scelta personale del primario Ma io ritengo di sì al di là delle difficoltà oggettive che esistono all'interno dell'azienda per quello che concerne l'organizzazione di tutti i servizi come tutte le aziende di piano di rientro le limitazioni di personale che pure esistono io non sono a conoscenza di motivi specifici per cui è stata fatta una scelta di questo genere se scelta ci sarà qualora non ci fosse stato un direttore di unità operativa complessa di cardiochirurgia in quel momento cioè qualche mese fa certamente saremmo stati deboli sul piano della rappresentazione delle nostre qualità in ambito regionale ovviamente logicamente la scelta della regione era basata anche sul fatto dell'organizzazione esistente a Teramo cambiamo ancora pagina taglio del nastro questa mattina a Montesilvano il sindaco Francesco Maragno ha presenziato infatti all'inaugurazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale e ha annunciato un'estate all'insegna della sostenibilità ambientale Francesca Romanatesti promessa mantenuta per il comune di Montesilvano che oggi inaugura ufficialmente il nuovo tratto di pista ciclabile nuova segnaletica a terra spazi dedicati agli amanti delle bici e più sostenibilità per un territorio interessato da grandi flussi di traffico abbiamo implementato lo spazio della pista ciclabile l'abbiamo messa a norma siamo tra i comuni virtuosi che hanno rispettato gli obiettivi prefissati questa sicuramente diventerà una serie di collegamento fondamentale per il cicloturismo all'interno del territorio dell'Abruzzo collegherà sostanzialmente il Molise alle Marche noi volevamo esserci volevamo essere i primi e per quanto riguarda il tratto di nostra competenza lo siamo oggi inauguriamo questa splendida pista ciclabile rimodulata in base alle esigenze del codice della strada sulla scia dei risultati ottenuti con le domeniche ecologiche il sindaco Francesco Maragno annuncia un'estate all'insegna di spettacoli e pedonalizzazione del lungomare per vivere la città senza smog e renderla più a portata di bambini e famiglie dalla fine di giugno tutte le sere e chiuderemo al traffico la riviera un tratto della riviera più consistente rispetto a quello dello scorso anno perché vogliamo dare la possibilità ai montesilvanesi e ai turisti di riappropriarsi dei propri spazi di vivere la città a piedi in bicicletta con i pattini e sostanzialmente di diventare padroni della propria città l'anno scorso è stata molto gradita questa iniziativa quest'anno la riproponiamo facendo diciamo così da contorno mettendo da contorno una serie di iniziative culturali e musicali che tanto piacciono ai turisti e ai residenti in occasione della giornata della ricerca l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise ha illustrato questa mattina i risultati della ricerca relativi all'anno 2015 un evento che rappresenta l'annuale incontro per gli operatori della sanità pubblica veterinaria italiana concepito come momento di scambio di dati e condivisione di risultati di progetti di ricerca finanziati dal ministero della salute con particolare attenzione a quelle concluse nell'anno 2015 un appuntamento annuale che noi abbiamo per in un certo senso giustificare con i nostri sponsor in questo caso il ministero della salute tutte le attività che noi facciamo i risultati che abbiamo ottenuto grazie ai finanziamenti del ministero della salute e come ogni anno è una giornata importante una giornata dove vorrei che l'istituto avesse visibilità per le attività che fa per i risultati che ottiene affrontiamo diversi settori diverse aree che vanno dal benessere animale dal settore riduzione e sperimentazione animale dall'igiene degli alimenti e il problema della listeriosi che è un problema attuale fino alla vaccinazione a produrre a sviluppo vaccini nei confronti di malattie che attualmente non sono presenti in Europa né in Italia che però sono presenti in territori confinanti come per esempio la peste dei piccoli illuminanti che chiaramente l'istituto nel suo ruolo di centro di referenza nazionale per le malattie esotiche ha il dovere di controllare ed eventualmente sviluppare presidi in questo caso immunitari vaccinali per poter poi eventualmente in un possibile ingresso di queste malattie all'interno del territorio nazionale europeo avere la possibilità di poterle affrontare mediante questi presidi messi a punto e sviluppati grazie ai finanziamenti del Ministero della Salute e ora andiamo a Loreto a Brutino per conoscere insieme il cartellone degli eventi estivi noi del Club Alpine Italiano abbiamo pensato di partecipare a questi eventi del 2016 perché festeggiamo il nostro decennale però non abbiamo pensato solo all'escursionismo e a passeggiare ma bensì vogliamo mettere in evidenza il nostro centro storico che è molto bello da visitare infatti venerdì faremo un trekking urbano visitando i musei e poi con un bel coro che chiude la serata il sabato ci sarà l'arrampicata sportiva sempre al centro storico poi con una finale in torre d'arrampicata a piazzale Monumento e la domenica festeggiamo con tutti i presidenti d'Abruzzo a Torre delle Valli abbiamo fatto questo invito per scoprire ancora il nostro territorio che è molto bello da vedere da visitare dove noi poi grazie alla famiglia Carboni portiamo i ragazzi della scuola e facciamo attività a 360 gradi vi invitiamo a partecipare a questo bellissimo evento è stato presentato un cartellone estivo dove tutte le associazioni e i partecipanti dopo tante riunioni che sono partite fine dall'autunno scorso riusciranno a presentare i propri lavori i propri interessi diciamo non solo alla cittadina ma a chi vorrà visitare l'Oredo in questi giorni sono quattro fine settimana ricchi con interessi diversi che vanno dalla street art al teatro agli stand gastronomici all'apertura di sentieri del CAI alla premiazione anche della pagella d'oro quindi gli interessi sono tantissimi sono sicuro che riuscirà e che questa tradizione in cui le associazioni sono riuscite a confrontarsi a dialogare a costruire qualcosa insieme aiutati questo bisogna dirlo dall'amministrazione e dal nostro main sponsor che è la vestina gas ciò ricadrà soprattutto sul benessere dell'intero comprensorio e di l'Oredo in particolare torniamo a Pescara per parlare dello stadio adriatico perché in vista della prossima stagione ci saranno lavori urgenti da portare avanti proprio nelle prossime settimane che riguarderanno soprattutto le due curve ascoltiamo l'assessore allo sport Giuliano Diodati Assessore Diodati Pescara in Serie A problemi però per lo stadio adriatico in vista della prossima stagione il fatto di essere andato in Serie A se da un lato è una gioia per la città da un altro lato è complicato per l'amministrazione comunale lo stadio non ha ancora tutti i requisiti per poter accogliere le partite di Serie A perché noi abbiamo dovuto fare dei lavori di risistemazione provvisoria delle due curve per infiltrazioni e problemi di staticità di queste due strutture per poter permettere ai tifosi di assistere alle partite dei playoff adesso dovremo provvedere invece a trasformare questi lavori provvisori in lavori definitivi e quindi fare in modo che lo stadio diventi assolutamente fruibile nostra volontà nostra intenzione è assolutamente quella di non privare la città della propria squadra del cuore e quindi noi ci stiamo attivando per reperire le risorse e i fondi per poter permettere la risistemazione strutturale dello stadio adriatico entro i tempi consentiti e quindi entro l'inizio del campionato di Serie A c'è poi il problema dell'adeguamento dello stadio adriatico e qui sorge un altro problema quello con la sovrintendenza riprenderemo a brevissimo i rapporti con le interlocuzioni con la sovrintendenza per vedere un attimino da poter uscire da questo impasse che purtroppo è legato a questa situazione questo servizio ci introduce alla pagina sportiva parliamo proprio del Pescara perché in queste ore i dirigenti biancazzurri stanno parlando con la Juventus per l'eventuale cessione di La Padula anche Caprari dovrebbe finire in bianco-nero però potrebbe restare un'altra stagione in biancazzurro per quanto riguarda invece gli arrivi al Pescara interessano Monachello e Trotta si lavora anche alla conferma di Crescensi e Verde per la difesa nelle ultime ore è spuntato anche il nome dell'ex lancianese nella scorsa stagione al Novara il difensore Magnus Trest vediamo Resta Gianluca alla Padula il nome al centro delle trattative di mercato che ruotano intorno al Pescara un mercato che il presidente Sebastiani potrà meglio indirizzare nel suo complesso una volta che si conoscerà l'epilogo di quella che potrebbe diventare una vera e propria telenovela nelle ultime ore tra le due principali litiganti Napoli e Juventus si è inserito di prepotenza il Sassuolo di Eusebio Di Francesco il patron Squinzi sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni e mezzo di euro per accaparrarsi il capocannoniere della Serie B dando anche in prestito l'eventuale sostituto Marcello Trotta giocatore che piace molto a Oddo Trotta ha fatto molto bene ad Avellino dopo una lunga esperienza in Inghilterra lo scorso gennaio è passato al Sassuolo dove ha giocato poco Pescara potrebbe essere la piazza giusta per esplodere in Serie A resta forte il pressing del Napoli per la Padula anche se il presidente Sebastiani potrebbe spingere il calciatore verso la Juventus in una più ampia trattativa che comprenderebbe anche il gemello del gol Gianluca Caprari con la vecchia signora il Delfino ha discorsi aperti in atto quali il riscatto di Fiorillo e il prestito per la prossima stagione di Mandragora questioni che potrebbero complicarsi qualora la Padula scelga di giocare all'ombra del Vesuvio il Napoli però può mettere sul piatto anche una contropartita come il prestito del portiere Luigi Sepe ex Virtus Lanciano giocatore già noto anche al DS in pectore del Pescara Luca Leone pronto a raccogliere l'eredità di Giorgio Repetto in uscita dal Lanciano Leone potrebbe sedersi a tavolino con l'Atalanta per discutere del prestito di un altro calciatore noto in Abruzzo l'attaccante Gaetano Monachello per l'attacco resta possibile anche il nome dell'uruguaiano Nico Lopez in forza al National Montevideo ma di proprietà dell'Udinese con il club dei Pozzo il Pescara vorrebbe ridiscutere la possibilità di riavere Valerio Verre ma la strada sembra in salita nelle prossime ore il Delfino discuterà con la Roma le posizioni di due giocatori di proprietà dei Capitolini il difensore Alessandro Crescenzi e il fantasista Daniele Verde entrambi erano approdati con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto ora va trovato un accordo per la loro permanenza in Rival Adriatico Scendiamo di categoria Lega Pro parliamo del Teramo nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata da Jacopo Forcella con il direttore sportivo Bianco Rosso Fabio Lupo è un mercato in una fase iniziale di sondaggio ma siamo molto attenti molto concentrati su ciò che può essere la cosa giusta per il Teramo se possiamo fare un nome probabilmente Speranza è l'uomo più vicino alla permanenza puoi eseguire Amadio Scipioni Cenciarini invece proprio no beh ci sono anche altri che hanno dato già adessione al nostro progetto Caidi Dorazio lo stesso di Paolo Antonio Petrella insomma quindi Speranza è sicuramente un leader di questo di questo gruppo e quindi noi abbiamo grande rispetto per lui e proprio per questa ragione attendiamo che lui prenda con tranquillità e serenità la decisione che ritiene corretta noi gli abbiamo proposto di restare con noi ancora per il prossimo anno o anche per di più se lui lo riterrà opportuno lui l'ha presa con grande gioia questa nostra proposta perché è stato un attestato di stima nei suoi nei suoi riguardi così come abbiamo fatto con altri però non ci facciamo condizionare poi eccessivamente da eventuali evoluzioni del mercato che possano portare anche un giocatore a prendere altre strade vorrà dire che noi andremo anche noi su altre strade senta se ne è parlato poco Alessandro Tonti com'è la situazione tra i pali? Alessandro viene da una stagione onestamente non semplicissima dopo una stagione invece straordinaria quindi un portiere che obiettivamente ha un suo valore ha una sua dimensione e anche lì siamo in una fase di valutazione insieme a lui e anche lui deve capire se per il portiere è ancora più complicata la valutazione sotto l'aspetto psicologico rimanere in un ambiente di cui sente la fiducia o viceversa con lui stiamo valutando anche la possibilità di rimanere oppure se dovesse avere prospettive di uscita le valuteremo insieme a lui L'ultimo Margiotta Francesco Margiotta è l'uomo più vicino a quello che avete puntato con maggiore attenzione è uno dei nomi che abbiamo puntato sui quali stiamo lavorando ma stiamo lavorando anche su profili di giocatori simili perché Margiotta è un giocatore che ha fatto molto bene l'anno scorso ha anche lui delle aspettative anche lui si sta guardando intorno e come lo fa lui lo facciamo anche noi Grazie Siamo al ciclismo polemiche a non finire dopo l'annuncio di questa mattina dell'annullamento dell'edizione 2016 del trofeo Matteotti noi questo pomeriggio siamo andati ad ascoltare il patron della manifestazione Renato Ricci Presidente Ricci quest'anno non si farà il Matteotti lei lo ha comunicato attraverso un comunicato stampa proprio poche ore fa ed è successo il finimondo se così possiamo dire sono arrivate telefonate da tutta Italia come mai questa decisione e se si è già pentito di tutto questo dopo le manifestazioni di affetto che sono arrivate in queste ultime ore sicuramente non mi sono pentito la notizia io la potevo dare tranquillamente anche dieci giorni fa ma per rispetto della Pescara Calcio di Daniele Sebastiani che è un carissimo amico appassionato per lui di ciclismo non volevo turbare una festa che abbiamo sentito tutti compreso la città di Pescara quindi compreso anch'io e quindi ho atteso un momento più tranquillo per dare questa notizia ma ormai io l'avevo già in mente di fare e l'ho fatto infatti abbiamo detto abbiamo già fatto il comunicato alla USEI circa dieci giorni fa per cancellare la corsa quel giorno e credo che si stanno scatenando in tutta Europa per prendersi quel 17 luglio di domenica che la Polonia in primis che ha bisogno e ha fame di ciclismo sicuramente prenderà la Polonia quel giorno e ha parlato di scarso interesse da parte delle istituzioni locali io devo ringraziare il presidente della regione D'Alfonso perché l'anno scorso ha fatto di tutto per far sì che il Matteotti non si fermasse già l'anno scorso e l'abbiamo fatto ci ha aiutato e ci ha aiutato in tutti i modi per farcelo fare l'abbiamo fatto poi ho detto non ci sono non ci sono stati i presupposti per affrontare questo 69esimo trofeo Matteotti perché non potevo io garantire al 100% la spesa e quindi non ho avuto nessun colloquio positivo da parte dell'istituzione punto io non ho forzato nessuno e siamo così giunti al termine della nostra terza edizione del TG6 grazie come sempre per averci seguito l'augurio di una serena notte a tutti grazie 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 a tutti